Heidi capitolo 14 parte seconda quando più tardi dormiva serena nel suo giaciglio il vecchio salì la scaletta posando il lume presso il viso della bimba che riposava tranquilla con le mani giunte il sonno l'aveva colta di sorpresa mentre stava recitando le preghiere il suo volto esprimeva un tal senso di pace che gli rimase a contemplarla immobile per qualche tempo ancora poi giunse anche gli le mani chinando il capo mormorò padre ho peccato contro il cielo e contro di te non sono degno di esserti figlio e due grosse lacrime gli colarono sulle gote all'alba e gli era in piedi dinnanzi alla capanna per guardare con occhi brillanti lo spettacolo dei monti la domenica splendeva dalle valli saliva il tintinio delle campane ed in altro fra gli abeti gli uccelli cantavano l'inno del mattino il vecchio entrò in casa vieni Heidi gridò il sole già alto mettiti un bell'abito andiamo in chiesa e la si affrettò bisognava far presta ad eseguire quel comando insolito scese subito col suo bell'abitino di francoforte ma si fermò stupita guardando il nonno oh non ti ho mai visto così nonno che bel vestito hai coi bottoni tutti d'argento sei più bello del solito e gli la guardava sorridendo anche tu sei carina con quel vestitino e scendono tenendosi per mano il suono delle campane che si chiamano da un campanile all'altra aumenta di sonorità mano a mano che essi si avvicinano al villaggio senti nonno è come una grande grande festa ad orfli tutti erano già entrati in chiesa e stavano per raccingersi a cantare quando il vecchio fece la sua entrata con Heidi per mano un uomo interrompendosi dietro una gobitata al vicino sussurrando guarda il vecchio della montagna poi un secondo ed un altro ancora fino a che in poco tempo fu un mormorio generale il vecchio il vecchio della montagna le donne si voltarono incuriosite ma quando il parroco cominciò la predica c'è sogno e distrazione nelle sue parole vi era un tale accento di lode di ringraziamento che tutti i presenti ne furono colpiti quando il servizio divino volse al termine il vecchio uscì con la bimba sempre per mano e si diresse verso la casa parrocchiale la gente che usciva nello stesso momento lo seguì con lo sguardo vedendolo entrare subito si formarono dei crocchi per commentare l'avvenimento con animazione gli sguardi erano fissi con curiosità sulla porta della canonica e tutti si chiedevano come il vecchio ne sarebbe uscito se in collera ora ha pacificato col parroco a poco a poco l'opinione generale cominciava a subire delle modifiche dopo tutto il vecchio non è poi così terribile basta vedere come tiene per mano la bimba diceva uno un altro aggiunse l'ho sempre detto io non andrebbe dal parroco se fosse un malvagio vedete che avevo ragione intervenne trionfalmente il fornaio quando una bimba che sta benone in una casa vuol tornare a tutti i costi dal nonno e segno che questi non è un selvaggio quel nuovo modo di pensare prese subito il sopravvento su tutti i gruppi rincalzato dai commenti delle donne che si erano avvicinate per raccontare ciò che avevano saputo dal pietro e dalla vecchia questi descrivevano il vecchio in modo assai diverso da quanto ci si sarebbe aspettati e gli abitanti di dorfli finirono per persuadersi di essere riuniti per dare il benvenuto ad un vecchio amico di cui avevano sentito la mancanza e il parroco come l'aveva accolto quando il vecchio ebbe bussato alla sua porta e gli aprì e gli andò incontro senza mostrare meraviglia probabilmente la sua apparizione in chiesa non gli era sfuggita prese la mano del vecchio fra le sue scuotendola con grande cordialità mentre questi rimanera silenzioso commosso da quell'accoglienza si rimise infine e disse sono venuto a pregarvi di voler scordare le parole che vi dissi lassù e di non conservarmi lancore avevate ragione e io avevo torto ora sono deciso a seguire i vostri consigli e verrò ad abitare ad orfri in inverno la piccola è troppo delicata per rimanere in montagna durante la stagione rigida e la gente mi guarderà come un uomo poco raccomandabile vuol dire che me lo sarò remitato meritato comunque spero che voi non vorrete fare altrettanto gli occhi del parroco brillavano di gioia prese ancora la mano del vecchio fra le sue stringendo la contenerezza disse siete stato nella casa del signore prima di venire nella mia me ne rallegro e non vi penterete della decisione presa di vivere fra noi sarete il benvenuto in casa mia come amico e vicino apprezzo ed amo la vostra compagnia e mi riprometto di passare lietamente più di una serata con voi e troveremo dei buoni amici anche per questa bimba accarezzò fettuosamente i capelli ricciuti di haidi e la prese per mano mentre riaccompagnava il vecchio dinnanzi alla porta i due presero congedo e così tutta la gente era donata sulla strada poteva vedere il parroco stringere ancora una volta la mano del vecchio della montagna come ad un amico dal quale gli dolesse separarsi appena la porta fu rinchiusa tutti si affrettarono ad avvicinarsi ed ognuno vuole essere il primo tante mani gli furono tesi ed egli non sapeva più quale stringere per prima qualcuno gridò mi fa molto piacere vedervi tornare fra noi vecchio e molto tempo che desideravo parlare un po con voi disse un altro il tumulto si sarebbe si accrebbe quando il vecchio rispose che contava di venire ad olfri per passarvi l'inverno con le sue vecchie conoscenze e gli sembrava essere diventato la personalità più in vista di tutto il villaggio la maggior parte dei convenuti vuole accompagnarle fino al di là delle ultime case e prendendo congedo ciascuno di essi si assicurò che gli avrebbe sostato nella propria casa alla sua prossima venuta ad orfli il vecchio immobile li seguì a lungo con gli occhi che gli ridevano fra le lacrime haidi lo guardò ammirata nonno oggi gli occhi ti brillano più del solito non sei mai stato così bello credi di segli sorridendo si haidi vedi oggi mi sento leggero e fresco come un giovane di vent'anni fa tanto tanto bene essere in pace con dio e con gli uomini dio è stato buono con me quando ti ha mandato sulle alpi giunti presso la capana del capraio il vecchio aprì la porta ed entrò buongiorno nonna disse credo che bisognerà ricominciare a rimettere un po posto dappertutto prima che vengano i venti dell'autunno o possibile il vecchio della montagna esclamò la vecchietta lietamente sorpresa potrò almeno ringraziarvi per tutto il bene che ci avete fatto che haidi ve lo renda tremando di gioia e la tese la mano all'ospite che la strense cordialmente ed ella continuò ho ancora una preghiera da farvi se a volte vi avesse offeso non punitemi lasciando partire la bimba prima che io vada a riposare laggiù presso la chiesa o non sapete cosa rappresenta per me questa bambina disse stringendo haidi fra le braccia non temete nonna non punirò né voi né me resteremo tutti uniti e dio voglia che sia per lungo tempo ancora brigida allora prese il vecchio indisparte gli mostrò il bel cappello piumato che la piccola le aveva lasciato raccontandogli quel che era successo ed aggiungendo che naturalmente non avrebbe accettato il regalo ma egli gettò un'occhiata alla nipotina e sorrise soddisfatto dal momento che ve l'ha regalato potete tenervelo è roba sua e se non lo vuole più dopo tutto ha ragione quel giudizio inaspettato rallegrò molto la donna vale certo più di 50 lire guardate e nella sua gioia alzava il cappello in aria che belle cose ci sono a francoforte avevo pensato di mandarci anche pietro un giorno l'altro che ne pensate nonno gli occhi gli risero maliziosi certo disse non potrebbe far male al ragazzo vedere un po di mondo ma bisogna aspettare qualche buona occasione il personaggio in questione aprì bruscamente la porta ed entrò con un balzo così travolgente da farne tremare tutta la casa si fermò an santi in mezzo alla stanza e tese una lettera avvenimenti inaudito quello una lettera sull'alpe e per haidi era di clara seseman che raccontava come dopo la partenza dell'amica la casa fosse rimasta vuota e triste temeva di non resistervi a lungo diceva e aveva pregato il padre perché la conducesse in autunno a ragazza in modo che le sarebbe poi stato facile farsi portare ad orfli mamma rosa l'incaricava di dire ai di quanto la provasse per aver portato i panini alla cieca e perché non li mangiasse così asciutti diceva di aver spedito un pacco di caffè per lei aveva tanto desiderio di conoscere la nonnina e quindi aspettava con impazienza al momento di venirla a trovare la lettera entusiasmò tanti presenti che persino il nonno non si accorse dell'ora avanzata è una gran bella cosa ritrovare un vecchio amico disse la vecchina questo ci fa sperare che un giorno possiamo ritrovare tutti quelli che amiamo verrete presto vero nebbe la promessa con una stretta di mana ed il nonno riprese con haidi la strada dell'alpe come al mattino le campane gli accompagnarono col loro dolci suono fino alla capanna bagnata dal sole del tramonto